Stavamo andando in studio, ci siamo trovati un gruppo di fan che accerchiava il bacino. Hanno tentato di sfondare le finestrini. Sì, anche, è forte. A volte ti spiazzano, ma in fondo è bello così, no? La boy band più famosa di tutto il Regno Unito, li conoscono praticamente ovunque. Mi sa che sono quelli che hanno avuto più...